Fa rinascere il polo cardiochirurgico grazie al team che opera al Policlinico per curare gli abruzzesi, che non dovranno più recarsi altrove, poiché a Chieti si trova un'eccellenza. E la sfida del nuovo direttore del polo cardiochirurgico dell'ospedale Santissima Annunziata e docente della scuola di specializzazione in cardiochirurgia dell'Ateneo Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, il professor Umberto Benedetto, che prende il posto di Gabriele Di Gianmarco coinvolto in un'inchiesta giudiziaria. Benedetto ha 42 anni, originario della Basilicata ed è stato scelto a seguito di una chiamata per chiara fama giunta dal rettore Sergio Caputi. Il luminare ha già creato la Hortic Team che si occupa delle patologie complesse della Horta che utilizza procedure all'avanguardia che lo vedono tra i pionieri a livello europeo. Sono arrivato solo da tre settimane qua a Chieti e ho trovato delle individualità eccellenti a partire dai medici, dagli infermieri, dal personale ausiliario, dagli anestesisti, cardiologi. Quindi veramente un gruppo di professionisti che non ha nulla da invidiare a nessun centro né europeo né americano né tantomeno italiano. Abbiamo una struttura che è meravigliosa e che è all'avanguardia per quanto riguarda le strumentazioni di sala operatoria. La velocità e la grande capacità di concentrazione sono peculiarità che lo contraddistinguono e che decretano la riuscita degli interventi chirurgici e per le quali ha ottenuto anche prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale. Infatti è arrivato dal primo maggio a Chieti e ha già eseguito con successo circa 30 interventi chirurgici con tecniche innovative che ha appreso lavorando diversi anni in Inghilterra e collaborando con team internazionali. Abbiamo trattato recentemente una paziente che inizialmente era dovuta andare extra regione per essere trattata. Questa paziente ha avuto una ricorrenza e invece questa volta non ha dovuto andare fuori regione ma l'abbiamo trattata qua a Chieti con delle tecniche chirurgiche particolarmente innovative. La nostra determinazione di portare l'innovazione a Chieti si estenderà chiaramente alla chirurgia con accessi mininvasivi, si estenderà alla riparazione delle valvole con materiale autologo o materiale artificiale, a minimizzare la morbidità perioperatoria e a ottimizzare quindi non solo i risultati chirurgici ma l'esperienza complessiva del paziente durante il suo decorso post-operatorio.